Si è svolta domenica scorsa presso la sede della Misericordia di Arezzo in via Garibaldi la cerimonia di consegna, inaugurazione e benedizione di tre nuovi automezzi. Due autoambulanze e un automezzo speciale. Si tratta di un'ambulanza Peugeot donata dalla signora Clara Rossini in memoria di Gioacchino, Anna, Maria Gemma Rossini e Fortunata del Buono. Un'altra ambulanza Peugeot è stata donata con il contributo dei volontari della Misericordia di Arezzo in memoria della signora Clara Rossini. E poi c'è un pulmino da servizi sociali Fiat Doblo incomodato d'uso gratuito messo a disposizione da eventi sociali nell'ambito del progetto Muoversi e non solo. All'iniziativa evento è stata anche riconosciuta l'egita del comune di Arezzo. Alla cerimonia erano stati invitati l'arcivescovo Riccardo Fontana, il sindaco Ghinelli, l'assessore alle politiche sociali Lucia Tanti e le altre autorità cittadine. Dunque per la misericordia tre nuovi automezzi per continuare nella sua enorme indispensabile funzione sociale quotidiana.